La sinistra ha dosato alla perfezione e ovviamente la conclusione dell'attaccante. La sinistra ha dosato alla perfezione e ovviamente la conclusione dell'attaccante. La sinistra ha dosato alla perfezione. La sinistra ha dosato alla perfezione e ovviamente la conclusione dell'attaccante. Quanti fischi accompagna la sua uscita dal campo? Dalla sua espressione si capisce che nemmeno lui è soddisfatto per come ha giocato oggi. Musacchio! Musica! 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 Musica!